ariete dovreste cercare di concentrarvi su un unico obiettivo e portarlo avanti fino in fondo se continuerete ad essere così dispersivi tra un po potreste trovarvi in una situazione di caos totale se questa sera deciderete di uscire evitate comunque di volere parlare sempre voi toro non intestarditevi sulle vostre posizioni non servirà piuttosto tentate di capire chi vi indica altre possibili strade accettate il programma che vi offriranno i vostri amici è un po pazzerello ma vi divertirete un mondo e dimenticherete tutte le ansie gemelli qualcuno accanto a voi forse farà bilanci un po tristi la vostra velocità nell'intuire il pensiero degli altri giocherà tutta a vostro vantaggio saprete dire le parole giuste per far uscire chiunque dalla sua tristezza avrete simpatia e riconoscenza cancro ripresa molto lenta e pigra delle vostre consuete attività molti intorno a voi avranno tante cose da raccontare ma voi vi ostinerete nel vostro silenzio anche se a dire il vero fingerete di partecipare alle situazioni degli altri con un dolce sorriso molta stanchezza da smaltire leone mentre l'ambiente intorno a voi sarà molto sereno avrete la sensazione di sentirvi continuamente fuori posto cercate di adeguarvi ai ritmi degli altri se non riuscirete a cambiare atteggiamento e rimarrete indisponenti sarà meglio non aggregarsi ai vostri amici per evitare litigi vergine un notevole spirito di iniziativa e una buona dose di grinta vi regaleranno una giornata vincente sotto molti profili stasera incontrerete una persona che vi apparirà a dir poco fantastica vi sentirete sulla sua stessa lunghezza d'onda ma di che segno è bilancia umore pessimo oggi non vi piacerà ritornare al solito tran tran che vi risulterà pesante all'inverosimile forse con un pizzico di disponibilità e magari con un po di filosofia riuscirete a cavarvela tentate almeno di trovare qualche aspetto positivo in voi e in chi vi è vicino ne varrà la pena scorpione sarà possibile un incontro con una vostra vecchia fiamma la voglia di riprovarci sarà tanta anche perché per voi quel sentimento non è mai stato definitivamente chiuso la vostra sincerità verrà messa duramente alla prova questa sera sagittario ignorate le battute un po cattivelle che vi saranno indirizzate nel corso della giornata sono dettate e la vostra capacità di comprensione lo sa bene solo da una buona dose di invidia non siate scioccamente timidi ed impacciati sicuramente non vi mangerà quella persona se tenterete di avvicinarla in serata capricorno iniziative intraprese tempo fa potrebbero portarvi ad una svolta positiva sarà a voi valutare se nel frattempo alcune cose sono cambiate e quindi se modificare ciò che sta attuandosi tutto a gonfie vele questa sera con chiamate acquario non tormentate gli altri con la vostra paura che qualcuno vi stia giocando un brutto tiro è solo il vostro stato di stress che vi porta ad ingigantire ogni cosa non è stato volutamente uno sgarbo quello che vi hanno fatto forse una dimenticanza in fondo superficiale è stata la causa di tutto pesci un po insonnoliti ma certamente soddisfatti oggi affronterete la giornata sentendovi con il cuore in festa ed il lavoro la routine saranno per voi un motivo per ritrovarvi senza troppi scossoni a vivere la realtà di sempre forse questa sera sarebbe meglio per molti di voi recuperare molte ore di sonno grazie a tutti